In questo periodo, in questo tempo d'estate, qualche anno fa avevamo proprio uno spazio che si chiamava così la nostra diretta mattutina, daremo spazio proprio a diverse iniziative delle diocesi, delle parrocchie sul nostro territorio. Oggi andiamo in provincia di Terni, ad Amelia, dove dal 4 al 18 agosto si terrà una scuola di evangelizzazione nel ricordo di una giovane, si chiamava Marianna Boccolini. Allora, siamo collegati con Padre Massimo Reschiglian, in collegamento con noi questa mattina, proprio per parlare di questa iniziativa della quale abbiamo anche visto il manifesto, dove due o tre sono uniti. Buongiorno Padre Massimo, benvenuto. Buongiorno Paolo, buongiorno. Allora, vogliamo partire proprio dal ricordo che voi farete nei giorni di questa scuola di evangelizzazione. Sì, ricordo di Marianna. Marianna è una ragazza di nanni, vissuta solo 18 anni, una storia meravigliosa di compassione e perdono. Aveva due doni speciali, la meraviglia, sapeva meravigliarsi del mondo intorno a sé, delle persone, dei doni che Dio le aveva fatto. E la compassione, aveva uno sguardo di empatia forte con i suoi amici, con i familiari, che era arrivato anche al perdono. Ha perdonato il giovane che sfortunatamente la portò nell'auto quando perse la vita a 18 anni. Aveva perdonato anche ai suoi compagni per una difficoltà che c'era stata nella incomunità. E ha perdonato anche ai propri genitori che avevano fatto una scelta di vita che lei non condivideva. Ecco, un dono davvero grande questo di Marianna. Marianna è una ragazza come tante altre, con una profondità spirituale grande, ha lasciato degli scritti meravigliosi. Tra questi scritti c'è un testo che noi abbiamo raccolto nella fondazione della quale io faccio parte, che ricorda appunto e custodisce la memoria di Marianna, che richiama, invita gli educatori, invita i giovani a fare esperienze di comunità. Perché dice, la scuola istruisce e i genitori sono anche punti di riferimento. Ma ciò che manca ai giovani di oggi è imparare a vivere insieme. Imparare a vivere le relazioni in modo appagante, in modo felice, dare un senso alla propria vita. E allora questa esperienza di comunità che proponiamo, e qui l'occasione anche per i giovani che sono connessi, di sentirsi chiamati, di accogliere l'invito che viene dal Signore, dove due o tre sono uniti nell'amore, io sono in mezzo a loro. Ecco, questa esperienza nasce proprio dall'eredità spirituale di Marianna, questo invito che ci ha lasciato proprio perché i suoi compagni e anche i giovani di oggi trovino una speranza. Quello che dice Papa Francesco ai giovani, non lasciatemi rubare la speranza. Ecco, questa esperienza vuole dare, ridare speranza ai giovani e vuole anche essere un'esperienza viva del contatto con il Signore. Grazie Padre Massimo proprio per questo bel ricordo, questo ritratto breve e essenziale che ha voluto tracciare della giovane Marianna. Lei parlava anche della difficoltà che hanno i giovani di vivere insieme, di creare relazioni, di dare un senso alla propria vita. Una scuola di evangelizzazione, quindi in questi giorni, dal 4 al 18 agosto, che cosa farete? E soprattutto i giovani avranno la possibilità in questi giorni, immagino di sì, ma voglio che a spiegarcelo sia proprio tu Padre Massimo, ci siamo dati del tutto dall'inizio, riusciranno a fare proprio esperienza di comunione tra di loro, di condivisione, di relazioni vere e autentiche? È in fondo una sfida questa. Una volta un ragazzo mi chiamò per appunto conoscere l'esperienza e mi chiese che cosa fate? E io dissi semplicemente questa parola del Vangelo, cerchiamo di metterla in pratica, dove due o più sono uniti. Nel mio nome io sono in mezzo a loro. L'esperienza che noi facciamo accade, accade che sentiamo il Signore vivo. Questi giovani hanno un'esperienza forte di Lui, ma quello che mi colpisce sempre è che questa esperienza poi diventa vita. Abbiamo avuto ragazzi che al termine dell'esperienza continuano a fare comunità attraverso i social, tra di loro, momenti di condivisione, momenti di preghiera. Cioè la comunità continua anche dopo l'esperienza che abbiamo fatto. E poi scelte di vita, per esempio giovani che hanno deciso di interrompere una relazione sbagliata, una relazione tossica, o giovani che sempre che hanno partecipato alle nostre esperienze, poi hanno fatto scelte di vita come nel matrimonio, nella vita religiosa, senza che all'interno dell'esperienza noi parliamo di vocazione, noi cerchiamo di vivere la vita cristiana, la vita cristiana vissuta nelle relazioni. E questa esperienza si fonda sull'esperienza della Chiesa degli Apostoli, della Chiesa degli Atti degli Apostoli. Ci sono quattro punti molto semplici sui quali noi lavoriamo, che esprimono il senso del vivere insieme, dell'essere uniti, che è il prendersi cura, prendersi cura gli uni degli altri. Allora c'è un primo momento dove è il Signore che si prende cura di noi, ed è la preghiera, dell'eucaristia, è il luogo nel quale Lui ci viene incontro. Poi ancora la vita fraterna dove ci prendiamo cura gli uni degli altri, condividendo i doni che abbiamo, i carismi, condividendo anche le nostre storie, quindi ascoltandoci, quindi raccontandoci, condividendo la vita insieme nel servizio. E poi la formazione dove ci prendiamo cura di noi stessi, come attraverso la parola e attraverso l'esperienza, e qui è molto bello, la testimonianza dei giovani santi. Dopo il sinodo dei giovani del 2018 abbiamo preso sul serio quell'invito di Papa Francesco nella sua enciclica ai giovani, dove dice i giovani santi sono un balsamo per la Chiesa di oggi, hanno la forza di guarire le nostre ferite e ci riportano al nostro primo amore. Ecco l'esperienza dei giovani santi, la loro testimonianza, noi vediamo che è molto fruttuosa, molto profonda, toccante per i giovani che partecipano, quindi conosciamo le loro vite, conosciamo le loro testimonianze, leggiamo le loro storie e diventano come delle lampade che illuminano il cammino anche nelle decisioni di questi ragazzi. Ed infine il quarto valore, possiamo dire così, che dà forza a questa esperienza è la missione. Noi avremo un tempo dedicato in cui andremo come missionari del Vangelo tra la gente, andiamo nel paese dove si svolge l'esperienza, che è Macchie di Amelia, e lì porteremo la parola del Signore, soprattutto nell'accoglienza, nell'ascolto. Andremo anche a visitare il carcere di Terni, andremo a incontrare alcuni detenuti e porteremo quello che è il Vangelo, cioè l'incontro, l'amore del Padre vissuto poi nelle relazioni e nel servizio. Con questo che tu dici, Padre Massimo, hai anticipato la mia domanda, appunto, che cosa farete? Hai riassunto perfettamente i quattro punti che in qualche modo sui quali poi andrà a svilupparsi questa scuola di evangelizzazione. Non so se è la stessa... Guardando queste immagini mi è venuto in mente i campi scuola che facevamo con la parrocchia quando eravamo molto, molto più giovani. Ho avuto, come dire, un sussulto di nostalgia guardando queste immagini, e poi anche un po' il senso di spensieratezza che si provava e anche un po' di nostalgia quando ritornavi a casa in attesa del prossimo campo scuola. Però, come giustamente dicevi tu, deve continuare quello che i ragazzi sperimentano durante queste giornate insieme, quindi la preghiera, la cucina, anche le banali pulizie della canonica. Noi, ad esempio, alloggiavamo in una canonica sono davvero quotidianità, in qualche modo ti fanno crescere, ti fanno maturare. Poi si continua, tornati a casa, si continua a fare relazione, si continua a stare insieme. È proprio questo. L'idea centrale, anche come progetto educativo, è proprio questo passaggio dalla catechesi, dalla parola alla vita. Noi abbiamo avuto diversi ragazzi che ci hanno detto sono bellissime le catechesi che fate, noi abbiamo anche dei centri pastorali anche nella zona qui di Terni, però li vorremmo vedere. L'Evangelo in concreto, cioè queste belle posizioni, questi contenuti bellissimi anche sul lezzo divino, che si offre a volte nella catechesi, dove le vediamo, dove le incontriamo? Allora, l'idea sarebbe proprio il progetto di passare dalla catechesi alla vita, offrendo la vita concreta a cristiano, poter vedere la parola nella carne, la parola nella relazione. E certamente, come dici tu Paola, questo è poi anche la missione continua, anche dopo la missione, continua poi nelle case, anche i contatti poi con i ragazzi, e poi le loro scelte di vita poi diventano missionari. Ti ringraziamo di cuore per essere stato con noi, per aver illustrato questo appuntamento. Ricordiamo 4-18 agosto e ad Amelia, a scuola di evangelizzazione, dove due o tre sono uniti. Andiamo appunto in provincia di Terni, ecco vediamo il manifesto. E come fare per trovarvi, padre Massimo? Iscrizioni aperte. e ci trovate, dunque non so se voi potete divulgare la locandina, ma ci sono delle mail, oppure anche i nostri riferimenti telefonici. La stiamo mostrando proprio in questo istante, poi ecco, non abbiamo detto una cosa importante, per giovani dai 18 ai 33 anni, quindi noi siamo fuori tempo massimo. 18-33 anni, sì. Siamo fuori tempo massimo, padre Massimo. Giovani coraggiosi, aperti alla speranza. Che bello, che merai. Vi aspettiamo. Vi vediamo anche per info e iscrizioni. Benissimo. Allora, grazie di cuore, alla prossima occasione. Grazie, grazie. Buona missione anche a te. Grazie, grazie padre Massimo. Allora, chiudiamo tra qualche istante con la pubblicità, poi torneremo di nuovo insieme con l'informazione, torneremo a San Giovanni in otto, andremo anche a Trieste per continuare a seguire la settimana sociale dei Cattolici.